Vediamo come si fa ad applicare più di un effetto allo stesso livello, senza aver bisogno di duplicarli. Allora, qui abbiamo il nostro livello. Cominciamo col selezionarlo e facciamo una maschera. Usiamo lo strumento penna giusto per dargli un minimo di curvatura. Su sfondi più complicati sarebbe indispensabile. Qui forse si poteva usare anche lo strumento rettangolo. Comunque, questa è la nostra maschera. Che infatti compare qui. Ora, una volta che abbiamo fatto la maschera, possiamo andare ad applicare un effetto. In questo caso, applichiamo questo effetto filtro fotografico ed eccolo qui. Io vado a selezionare personale e così posso scegliere il colore che voglio. E posso decidere la densità, cioè quanto colore sto mettendo. Ok. A questo punto, io qui ho maschera e ho effetti. E ho il mio filtro fotografico. All'interno di filtro fotografico vado su opzioni di composizione e vado a dirgli che deve agire su maschera 1. Le seleziono tutto. A questo punto, ho applicato il mio colore solo sull'acqua. E siamo a metà dell'opera. Adesso io potrei duplicare il livello e fare un sacco di passaggi complicati, ma in realtà, io tenendo un livello solo, posso semplicemente duplicare la maschera. Quindi con Command-D duplico la maschera e ho Maschera 2. Maschera 2 la inverto. Voglio vedere solo questo pezzo. A questo punto, su Maschera 2, posso applicare un altro filtro. Sfumatura 4 colori. Metodo di fusione moltiplica. Potrei cambiare i colori, ma diciamo che per quello che ci interessa va bene così. Ora, su Sfumatura 4 colori, faccio la stessa cosa. Vado su Opzioni di composizione e gli dico che deve agire solo su Maschera 2. Ora, qui la riga è molto netta, per cui, su Maschera 2 andiamo a sfumare un po'. E anche su Maschera 1, magari. Qui poi si tratta di fare Fine Tuning e sicuramente non ho scelto dei colori che privilegino. il realismo. Però, era per fini dimostrativi. Abbiamo visto come si può applicare. Qui abbiamo un solo livello. È un solo livello che contiene tutte le nostre regolazioni di colore applicate su due maschere. Ovviamente, in questo caso, la maschera era la stessa. Ma io potevo fare due maschere diverse. Potevo prendere solo una porzione e solo una porzione. E la maschera avrebbe funzionato comunque.